Roma Karting 7 dalla capitale, il team che ha anche la postazione d'onore qua in mezzo alla pineta come si organizza Simone la gara delle gare? 24 ore, paddock e box con Simone Vieni Marco Come si organizza? Intanto come vedi abbiamo 12 piloti divisi per due squadre ci siamo organizzati con camper, tende, chi in hotel, chi diciamo fuori da qui poi si organizza con computer, persone che sono addette a guardare magari carte che entrano, che escono per cercare di dare una livellata in pista e basta diciamo che è la prima gara che facciamo qui da 24 ore con la gran parte dei piloti che stanno qui quindi è tutto nuovo, però ci stiamo divertendo Vogliamo il segreto adesso, dove hanno dormito i piloti di Roma Karting 7? Nel camper Andiamo a vedere il camper di Roma Karting 7 Andiamo a vedere dove hanno dormito i piloti di Roma Karting 7 Simone, dov'è la vostra loggia imperiale? Vieni Marco La trezza è questo Ah c'è anche la Dependance giustamente Roma Karting 7, solo il top Vieni Marco